La vita sportiva e non del campionissimo per Antonomasia è stata scandagliata davvero sotto ogni aspetto. C'era però forse una lacuna ed era relativa al suo ultimo anno di vita terrena prima che una malaria non diagnosticata lo strappasse all'affetto dei suoi cari e di milioni di tifosi il 2 gennaio del 1960 all'ospedale di Tortona. Era un Coppi quello del 59 e logoratosi da mille battaglie ma ancora straordinariamente vivo con il suo stile inconfondibile e con tanti stimoli insospettabili. Ad un autentico genio marchigiano si deve quest'ultimo bagliore coppiano al Cio Moretti che pensò bene di investire il budget pubblicitario dell'azienda della quale era direttore commerciale la Trico Filina su una squadra ciclistica con capitano niente po' di meno che Fausto Coppi appunto. Il tutto è stato mirabilmente raccontato in un libro presentato presso la sala convegni del Cone di Ancona e scritto da Marco Pastonesi scrittore ed editorialista per anni della Gazzetta dello Sport. Parliamo di questa Trico Filina Coppi quando il campionissimo era al tramonto della sua carriera ma era ancora tanto amato dalla gente. Parliamo dell'anno del signore 1959. Sì Coppi era incredibilmente senza squadra e quando Alceo Moretti a Milano venne a saperlo scommise su di lui e riuscì a convincere in maniera rocambolesca in maniera molto avventurosa i due proprietari della Trico Filina e si costituì questa squadra. Era a quel punto della stagione una stagione già quasi cominciata era una sorta di armata brancaleone perché accanto a Coppi e a un paio di gregari Michele Gismondi innanzitutto. Da Monte Granaro. Da Monte Granaro e un altro paio di gregari di provata, cioè collaudati e poi gli altri erano corridori o da lanciare o da rilanciare e fu un'avventura perché la Trico Filina partecipò al Giro d'Italia, partecipò a tutte le gare del calendario internazionale, partecipò addirittura al Tour de France con uno dei suoi corridori Federico Bahamontes che correva per la Trico Filina in Italia grazie a Fausto Coppi e poi alcuni dei corridori, Coppi compreso, parteciparono alla Vuelta. Quindi insomma un grande calendario. Alceo Moretti fu un pioniere, non lo possiamo dire, delle sponsorizzazioni sportive perché a quel tempo, non dico che era un unicum, ma quasi. Studiandolo era un uomo di grande intuizioni e coraggio, era un uomo che aveva capito che il ciclismo era ancora uno sport estremamente popolare, vicino alla gente e che Coppi era nel cuore della gente a prescindere dal risultato. Coppi nel 59 ha 40 anni, ormai è stanco, è sfinito, fa fatica ad arrivare al traguardo, arriva al traguardo con corridori che lui neanche più conosce perché sono corridori di altre generazioni e di altro lignaggio. Però è un Coppi curioso, è un Coppi voglioso, è un Coppi che non sa staccarsi dalla bicicletta, non sa scendere dalla bicicletta, è un tutt'uno con la bicicletta. Viene da chiederle, Ormezzano diceva, Merckx il più forte, Coppi il più grande. Lei è d'accordo? Come si può non essere d'accordo con Ormezzano? No, e poi con una tesi così, effettivamente così, non si possono paragonare, ma la grandezza di Coppi era più che grande, era grandioso Coppi. Cosa sarebbe stato Fausto Coppi senza la guerra, con un palmarès forse incredibilmente più grande? Beh, quei cinque anni gli rubarono tantissime vittorie e poi Coppi sarebbe rimasto nel ciclismo perché Coppi era già nel ciclismo e lo era per sempre, non solo corridore, ma già in parte direttore sportivo, in parte industriale, in parte testimone, in parte addirittura giornalista. Coppi era il ciclismo, ma allora era molto di più, Coppi era l'Italia e gli italiani. Le chiedo un'ultima cosa, lei nel suo libro parla del 1959, di quest'ultima stagione, poi come ha accennato il 2 gennaio 1960 avvenne questa tragedia, questa morte assurda per malaria, difficile dirlo, ma Coppi sarebbe rimasto nel ciclismo in quali vesti, in quali situazioni a suo avviso? Coppi sarebbe rimasto nel ciclismo, comunque, dovunque, chissà, forse avrebbe fatto il commissario tecnico, forse avrebbe fatto il presidente della federazione, ma, insomma, Coppi era già nella storia dello sport e nella storia degli italiani. Poi noi diciamo Coppi era, ma Coppi è, ecco, Coppi continua a vivere, su Coppi sono stati scritti più di 300 libri, Un'inciclopedia, anzi, una biblioteca. Una biblioteca intera, Coppi è, Coppi continua a essere, c'è un po' di Coppi in tutti i corridori, in tutte le ruote che girano. Il suo Amarcord è stato coinvolgente, raccontando un Coppi quasi inedito e di riflesso il suo patron, l'allora nemmeno quarantenne Alceo Moretti, con le sue enormi capacità manageriali, la sua innata passione per lo sport, e perché no, il suo saper vedere lontano, con intuizioni che assomigliano a visioni, nelle quali si conigono fantasia e razionalità, con i figli, Giorgio e Sergio, che contribuiscono a custodire questo grande bagaglio di esperienze. Alceo Moretti fu, a mio avviso, veramente un grandissimo innovatore, perché a quel tempo, parliamo di anni 50, portare le sponsorizzazioni in quel modo era, almeno in Italia, davvero un unicum, forse si ispirava agli Stati Uniti, che è stato sempre un attimo un suo mantra, no? Probabilmente. No, questo è vero, sicuramente papà era avanti con il pensiero, avanti con la testa, e devo dire anche con il cuore, nel senso che lui poi queste iniziative, sicuramente avevano uno sfondo pubblicitario, promozionale, di innovazione nella comunicazione, eccetera, però avevano anche un fondo, secondo me, molto passionale, perché lui era uno sportivo con la S maiuscola, non solo il ciclismo, calcio, basket, atletica, è stato un appassionato vero di tutto lo sport, e per lui, in riferimento a questa situazione particolare di Coppi, che nell'ultimo anno di carriera era rimasto incredibilmente ancora a piedi, per lui era una follia, conoscendo la passione degli italiani per il campionissimo. Ma forse ci voleva anche coraggio, temerarietà, no? Impostare una squadra su un quarantenne, anche se parliamo del più grande quarantenne in assoluto. Sì, però un coraggio pensato, nel senso che io mi ricordo quando ero piccolino, papà mi raccontava sempre che lui aveva questa passione di fare la squadra dei numeri undici, nel senso che le squadre di ciclismo erano di dieci persone, e lui andava a caccia di tutti gli undicesimi, quindi o i ragazzi da lanciare, o quelli considerati vecchi ma che secondo lui avevano ancora benzina e voglia di rivalza, e quindi faceva queste squadre di persone con un cuore, con un qualcosa da dire, da mettere sulla strada. Ma ciao Moretti, io l'ho conosciuto solo di riflesso, ma si è occupato di tantissime cose, di politica, di moda, però lo sport forse occupava il posto del cuore. Sicuramente, sicuramente. Per lui, come dicevo prima, papà è stato uno sportivo, ma proprio per il senso dello sport, quindi rispetto degli altri, rispetto dell'avversario, e una grandissima empatia con tutti quelli che erano gli atleti, i corridori o le persone che gravitavano intorno a questo mondo dello sport. Per lui è sempre stata la sua vera passione, al di là della comunicazione, della politica, delle aziende, dell'industria. Lo sport gli faceva sempre brillare gli occhi. Questo libro di Marco Pastonesi fa luce anche su una fase di carriera di Coppi poco conosciuta, l'ultimo anno, questa tricofilina Coppi. Sì, una squadra nata appunto sull'onda emotiva del fatto di averlo visto senza squadra, però un'esperienza dove anche Coppi, come ci racconta bene Marco Pastonesi nel libro, non corre solamente, l'età anagrafica ha il suo peso, quindi sicuramente non ha più quei guizi di quando ha ragione, però è una squadra che mette in campo non solo Coppi alla fine della sua carriera, ma anche tanti altri atleti che si dimostreranno grandissimi. I Bahamontes che vince il Tour de France viene cresciuto, viene istruito, viene in un certo senso allevato da Coppi, quindi non solo un Coppi atleta ma anche un Coppi che diventa manager, diventa allenatore, diventa comunque formatore di altri grandissimi. Alla presentazione del volume, tra gli altri anche Gioia Bartali, nipote del grande Gino, è da decenni ormai marchigiana di adozione. Il presidente della FederCiclismo Marcherino secche e numerosi appassionati ed amici che hanno seguito con grande attenzione il racconto di Pastonesi ed ovviamente sono rimasti incuriositi dal contenuto del libro. Fabio Luna, presidente regionale del CONI, oggi si celebra un campionissimo, anzi il campionissimo e si fa luce su una fase della sua carriera davvero poco conosciuta, l'ultimo Coppi. Direi proprio di sì, è un appuntamento importante, quello che stiamo vivendo oggi, siamo onorati come CONI di poter ospitare un'iniziativa come questa proprio all'interno della Casa dello Sport, Casa dello Sport che raccoglie anche una delle biblioteche più famose, forse poco conosciuta ma è la biblioteca dello sport sicuramente più importante della regione Marche e il fatto di presentare oggi un libro scritto da uno dei più grandi giornalisti del ciclismo a livello nazionale e non solo, Marco Pastanesi, che ci racconta di un fatto forse anche poco conosciuto, c'è anche l'incontro con un altro grande, in questo caso del giornalismo, Alceo Moretti, sicuramente è un qualcosa veramente da leggere, sono convinto che sarà anche un libro che avrà molto successo perché mette insieme la tradizione di uno sport veramente importante con un giornalista che ha fatto la storia, non solamente del giornalismo marchigiano ma io direi veramente a tutti i livelli. Tu hai conosciuto sicuramente meglio di me Alceo Moretti che è stato tante cose, è stato manager, è stato giornalista, però è stato sportivo e forse anche pioniere nel portare il mondo del commercio, delle aziende, degli sponsor nell'ambito sportivo. Ma sì, ho avuto la fortuna di averlo come maestro perché posso dire che ci sentivamo un giorno sì l'altro pure e questo è accaduto fortunatamente per me per moltissimi anni. Poi ci siamo anche incrociati nella stessa televisione per un periodo anche se lui ne ha girate tante e ne ha anche create, molti sapranno che fu lui a cedere Telemilano a Silvio Berlusconi, questo già la dice lunga sulla sua capacità di visione che declinava in tanti modi, nel senso che in tutti i mondi che lui ha attraversato ha lasciato qualcosa di importante perché era un uomo dalla straordinaria visione, era avanti rispetto a tutti e se no non avrebbe partecipato alla, diciamo, propaganda elettorale perché si chiamava propaganda elettorale all'epoca di personaggi come John Kennedy o Richard Nixon che non è una cosa da e per tutti e devo dire che ricordarlo oggi che sono passati poco più di sette anni dalla sua scomparsa è un modo, quello del collega Pastonesi che non ha bisogno di presentazioni perché è un personaggio anche lui straordinario nella sua capacità di raccontare il ciclismo associarlo a un fenomeno come è stato Fausto Coppi credo che sia un modo azzeccato perché siamo di fronte a due figure, ognuno nel proprio campo che ci hanno dato tantissimo. Un'ultima riflessione riguarda il fatto che Alceo è nato nel 1921 fosse nato invece in questo terzo millennio sarebbe stato un appartenente alla generazione multitasking perché lui faceva tante cose insieme e le faceva molto bene. Coppi è ora più che mai una leggenda a 60 anni dalla sua scomparsa il suo mito è attuale anche tra le giovanissime generazioni e quando le sue doti si sono unite a quelle di Moretti non poteva che scaturire un'esperienza unica ed è davvero un enorme peccato che sia durato lo spazio di una sola stagione sportiva almeno però adesso sia un libro che definire prezioso e credeteci un eufemismo.